Il periodo evolutivo chiamato uomo. Qual è la prima incarnazione umana? Commento. Con l'incarnazione da selvaggio l'individuo inizia il periodo evolutivo chiamato uomo, che terminerà con il periodo evolutivo chiamato superuomo, che non significa un uomo che ne vale due, ma non più uomo. Per selvaggio i maestri immateriali non intendono necessariamente il membro di un'unione tribale, ma chi frequenta uno stato di coscienza in cui vive ancora di violenza, di sopraffazione, ecc. Per il cerchio Firenze 77, ad esempio, gli hooligans, i tifosi teppisti inglesi che seminano disordine e distruzione pur essendo dei civilizzati, vivono lo stato di coscienza del selvaggio e sono perciò le prime incarnazioni umane. Per il cerchio Firenze 77, ad esempio, gli hooligans, i tifosi, 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 i tifosi. Grazie. Grazie.